Il nostro compagno, il nostro amico, il nostro atleta dell'Accademia Pugilistica Contrada era un ragazzo serio per bene, era laureato in matematica era l'esempio perfetto dei giovani che chi studia può fare sport e chi fa sport può studiare Emanuele ne era l'emblema Che sportivo era? Emanuele era uno sportivo deciso, determinato faceva parte del nostro gruppo, ha fatto anche due incontri agonistici nonostante lui lo faceva più per passione dopo gli studi però era un ragazzo determinato, pieno di grinta ho tantissima voglia di lavorare un ragazzo umile e serio Come è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata grazie al nostro direttore sportivo Federico Iannacone proprio per questo motivo, per dare l'esempio ai giovani ai giovani a scuola, come bisogna comportarsi nella vita come può aiutare lo sport in questo caso perché Emanuele era l'esempio di tutto questo che lui attraverso lo sport, lo studio dava lustro alla sua vita quindi Emanuele dovrebbe essere un esempio per i giovani di oggi e purtroppo ci ha lasciato, grazie per quella tragedia, molto precocemente Emanuele dovrebbe essere un esempio per i giovani di oggi